Uomini e donne di Maria De, Filippi ed in particolare di Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ci verrebbe da dire anno nuovo polemiche vecchi, in quanto questo anno la stessa Gemma Galgani si è presentata in trasmissione con delle modifiche importanti al suo corpo, insomma un vistoso seno e labbra con lifting, aggiustatine delle quali la stessa Gemma Galgani non solo non si nasconde, ma insomma quasi se ne fa vanto. E' proprio da qui trae spunto la stessa Tina Cipollari per replicare e attaccare la rivale Gemma Galgani. Insomma hanno nuovo polemiche vecchie appunto. Uomini e donne? Tina Cipollari offesa da Gemma Galgani per le sue labbra canotto. Tina Cipollari consigliera del programma Uomini e donne di Maria De, Filippi. Il tutto è avvenuto direttamente, dalle colonne di Nuovo TV, dove, la consigliera di Maria De, Filippi ha arringato i suoi fans. Il motivo pare essere molto semplice, ossia negli anni passati la stessa Gemma Galgani sembrava essere molto contraria verso le donne che si rifacevano. La stessa Tina ricorda che Gemma aveva definito i suoi labbri come dei canotti. E adesso invece sembra andare in tutta altra direzione. E' ovvia che insomma, qualche freccia al suo arco, la stessa Tina Cipollari ce l'ha in quanto è evidente che negli ultimi anni, come Gemma Galgani torna nella trasmisizione Uomini e donne qualche cambiamento più o meno evidente lo si vede chiaramente. E voi da che parte state?